sono dell'86 infatti la locanda si chiama locanda 86 per questo motivo a livello professionale ho iniziato a 15 anni nei ristoranti rinomati della zona giusto per capire se poteva essere il mio lavoro perché a quell'età diventa difficile un po sapere cosa si vuole fare da grandi insomma da lì ho cominciato un percorso tra scuola e lavoro stage anche ho avuto la fortuna di lavorare a Pinocchio che è un'istituzione in questo paese ho cominciato poi anche a viaggiare un po' a vedere le altre realtà ho lavorato sia in alberghi in ristoranti anche in un villaggio turistico e lavorare in varie tipologie in albergo impari un tipo di lavoro che può essere utile anche al ristorante il ristorante impari un tipo di lavoro è tutta una questione di esperienza diciamo primo anno che partecipi a cuccheri noi avevamo proposto una tartare di salmone avvolta in una gelatina di acqua di riso artemide che è un incrocio tra il venere e l'indica con una un'aria di arancia origano e zenzero cioccolato mangiare polverizzato ed è stato divertente prima di tutto perché bisogna divertirsi l'evento che è stato che viene fatto comunque per la beneficenza è un'ottima cosa perché questi tempi si tende di più a pensare a se stessi che magari a chi potrebbe avere anche un po' a 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